Ma che vita meravigliosa Intanto il nostro Alessandro Banchero è andato a Modena Ci aspettano Dio Dato, Roby Facchinecchi e Alberto Berti Credo la musica abbia un potere terapeutico Ed è una cosa che probabilmente abbiamo sperimentato tutti noi in questi mesi Ora penso che la musica possa essere davvero un motore per una ripartenza reale Spero davvero che torni la nostra ad essere una vita meravigliosa quanto prima Ci lavoreremo tutti insieme Ciao Marco, sono qui con il premio Pierangelo Bertoli Che daremo stasera a Roby Facchinetti E con il premio Pierangelo Bertoli per dirti tamo Che daremo a Dio Dato È una bellissima serata perché è una delle prime serate che si fa a capienza piena Lo spettacolo riparte, la musica riparte Noi ripartiamo Ce la facciamo e rinasciamo un'altra volta come dice Roby Rinascerò, rinascerai È questo brano che è un vero inno alla vita e un inno alla speranza Questo testo che ha scritto Stefano Dorazio che a un certo punto dice Quando tutto sarà finito torneremo a rivedere le stelle Questa è una frase che devo dire che mi risuona sempre nella mente Per cui lui ora purtroppo o per fortuna le stelle le sta vedendo veramente tutte Ed ora dobbiamo pensare di riprenderci le nostre vite E veramente in senso totale Per cui con tutta la nostra forza e con tutta la nostra volontà C'è un nostro brano che racconta appunto così Ora si respira E chi fermerà la musica?